Si chiamano GADIT e perseguono un unico obiettivo, tutelare l'ambiente. Parliamo delle Guardie Ambientali d'Italia che dopo un lungo iter sono approdate anche sul territorio provinciale terramano grazie alla neonata Associazione Provinciale delle Guardie Ambientali d'Italia riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e con l'alto patrocinio dell'ISPRA l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente col patrocinio della provincia di Teramo e del Comune di Castellalto, il Presidente, Fondatore e Gaetano Ercole. Il GADIT è una nuova associazione nata in provincia di Teramo e si occupa soprattutto della tutela ambientale, ittico, venatoria ed ecozofila in genere. Tutti i nostri associati sono già in possesso di un decreto della provincia di Teramo per quanto riguarda la vigilanza ittica e quindi la tutela delle acque. In un territorio che di emergenze, soprattutto ambientali, ormai ha un lungo elenco all'attivo quanto conta la presenza di guardie ecologiche? Sono di vitale importanza anche perché dobbiamo anche metterci nei panni di tutti gli enti che purtroppo con le risorse economiche non ci sono, non ce la fanno più e quindi noi cercheremo di aiutare il più possibile. Sono 19 in tutto le guardie già riconosciute e attive sul territorio provinciale. Di queste, 7 dopo il giuramento in prefettura rivestiranno l'ulteriore carica di guardie ecozofile e il 6 settembre prossimo inizierà il corso di formazione per aspiranti guardie ecozofile con mansioni di pubblico ufficiale e nello svolgimento del servizio di polizia giudiziaria e amministrativa. Con la nomina che ci ha dato il suo eccellenza il vice prefetto abbiamo acquisito la nomina di pubblici ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle nostre mansioni ovviamente.